Fondamentale che Malpensa cresca, significa lavoro e sviluppo del territorio. Malcargo, Malpensa o Montichiari, Salvini? Perché a Brescia dicono che Montichiari mangerà Malpensa. Assolutamente. Malpensa è la capitale del cargo e come tale deve crescere. Ma poi per lo sviluppo che avrà la Lombardia c'è spazio per tutti. Non c'è l'alternativa Montichiari-Malpensa. Chi parla di un'alternativa Montichiari-Malpensa non conosce i numeri.